San Pialano e Viesi Misano si sfidano con ambizioni di classifica diverse anche se la distanza attualmente tra le due formazioni di sole e due lunghezze. Alla fine ne esce un brutto 0-0 con l'immagine a cura di Paolo Alcangeli. Passiamo alla cronaca del match. Il Misano cerca di schiacciare l'avversario ma lo fa malamente. Il colpo di testa di stella termina ampiamente a lato. Stessa cosa dicasi per la conclusione di Muccioli. La San Pialano si vede con questo tiro di collini bloccato da Sacchi. Ma proprio gli ospiti concedono davvero tanto. Il trattivo di Muccioli non trova il bersaglio. Ancora Muccioli protagonista e migliore dei suoi impegna così Zollo. Nella ripresa la San Pialano va vicinissima al gol. Sacchi è battuto ma la sfera termina di nulla a lato. Muccioli dall'altra parte da calcio piazzato non inquadra il bersaglio. Ma è sempre lui a ricare pericoli senza incidere. Dal traversone del neo entrato pari arriva il colpo di testa di stella che termina a lato. Miente successione da una parte e dall'altra. Ecco spuntare due comode parate per Sacchi e Zollo. Ma Zollo prima compie l'inizio di un intervento facile della giornata ma poi deve superarsi su questo missile di stella che fa gridare al gol. Strepitoso l'intervento dell'estremo ospite. Dall'angolo il colpo di testa di Urbinati termina alto mentre la punizione di Serafini è a dimenticare. Lo stesso Urbinati si danna ma non trova forza per incidere. Ancora occasione per il Mucciano ma né Sanchez né Benedetti riescono a battere Zollo. Mentre Collini dall'altra parte sveglia Sacchi rimasti inoperoso e quando Tonini fa una discesa delle sue va vicinissimo al grande gol della giornata ma si perde sul più bello. Mentre a fotofinish di Vore gode tre punti neo entrato Toreggiani. 0-0 il finale.